Ciao a tutti, questo è il secondo video per come vendere su Marketplace. Il video precedente lo potete trovare all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Nel video precedente noi abbiamo settato il nostro store, il nostro negozio su Marketplace e abbiamo ottenuto la Magic Box, che è quella su cui io sto ora sedendo. Vi ripeto, mi raccomando, per ora, alla data in cui sto facendo questo video, che è gennaio 2012, dobbiamo inserire i nostri articoli da vendere all'interno di questa Magic Box. In un futuro sarà possibile farlo direttamente dall'inventario, per oggi, sino ad oggi, bisogna ancora farlo dalla Magic Box di Xtreet. Quindi, abbiamo rezzato la nostra Magic Box, che dovrà rimanere rezzata nel Word, la editiamo, apriamo il nostro inventario, cerchiamo l'oggetto che dobbiamo vendere, in questo caso io l'ho chiamato oggetto da vendere su Marketplace. Se vi ricordate, nel primo, primissimo video di cui vi sto mettendo in questo momento, in sovraimpressione, il link, abbiamo imparato a settare le permission, mi raccomando, settate le permission prima di vendere qualcosa. Comunque, abbiamo aperto il nostro inventario, editiamo la Magic Box, andiamo nel suo contenuto, vediamo che ci sono gli script che serviranno a vendere il nostro articolo, trasciniamo l'oggetto, ho scritto oggetto con una sola G, scusatemi per fare le cose in fretta, ho sbagliato, è un errore di stumpa, vabbè, lo trasciniamo dentro la Content Hub, aspettiamo un attimo, vedete che in chat viene fuori un messaggio, e aspettiamo che la Magic Box diventi del suo colore normale, e andiamo sul sito Marketplace. Sul sito Second Life Marketplace, ovviamente dobbiamo essere loggati, andiamo nella colonna su in alto, in My Marketplace, è un menu a tendina, lo apriamo, andiamo in Merchant Home, aspettiamo che la pagina si carichi, nella colonna su in alto a sinistra, andiamo sotto Inventory, in Manage Inventory, e lo clicchiamo. La prima cosa che dobbiamo fare è andare nella colonna qua a destra, e cliccare su Sincronizza Marketplace con la Magic Box, lo clicchiamo, aspettiamo, normalmente potrebbero esserci, cioè normalmente, purtroppo potrebbero essere dei problemi, se non vedete immediatamente il vostro articolo, fate questa operazione più volte. Comunque, riceviamo questo messaggio che dice, il tuo Inventory è stato sincronizzato con Second Life, fai un refresh della pagina per vedere i cambiamenti. Noi facciamo un refresh della pagina, io sono in questo momento con Google Chrome, attenzione che qualche volta con i siti della Linden Lab, ci sono dei problemi con Internet Explorer, con Chrome funziona bene, con Mozilla anche, con Firefox anche, con gli altri sinceramente non lo so. Comunque, richiarichiamo la pagina, e vediamo, richiarichiamo la pagina, e ci dice che abbiamo un oggetto in associato sul Marketplace. Se abbiamo più articoli, possiamo vedere qua sotto, possiamo listarli per elencati, cioè già elencati per la vendita, non elencati o indisponibili. Ok, andiamo, vedete, scegliamo questo oggetto da vendere su Marketplace, lo clicchiamo, abbiamo qua da scegliere variazioni, io faccio un, crea un nuovo listing, crea un nuovo listing, lo clicchiamo, si aprirà una nuova pagina, arrivati in questa pagina, dovremo compilare i vari campi relativi a questo prodotto. Abbiamo innanzitutto SCU, SCU sta per Stock Keeping Unit, potete trovare maggiori informazioni su cosa vuol dire a questo link, purtroppo soltanto in inglese, ma comunque è un numero unico, identificativo del vostro articolo, potete anche non compilarlo. Version, versione, qua dovete scrivere che versione è del vostro articolo, la prima volta che lo farete sarà la versione 1, il giorno che farete un aggiornamento sarà la versione 2, la versione 3, la versione 4, questa è una cosa che decidete voi, se mai aggiornerete questo articolo. Qua dovete decidere lo stato dell'articolo, item sta per articolo, attivo o inattivo, attivo sarà per rendere attivo il vostro listing, cioè per far sì che questo articolo compaia in vendita sul marketplace. Maturity level, general, moderate, adult, dovete dire il rating del vostro articolo, non posso spiegarvi in questo video le listing guidelines, lo faremo in futuro. Mesh, dovete scrivere se ci sono delle mesh in questo articolo, quindi no mesh, mesh parzialmente o 100% mesh. Poi dovrete scrivere le permission di questo articolo, se è copy, se è modify, se è transfer, potete dire di scrivere, di vedere la descrizione, perché potrebbero esserci dei dettagli in più che volete scrivere, o se c'è una licenza ad uso. Potete fare il listing in alcune lingue, che sono inglese, giapponese, tedesco, francese o portoghese. L'italiano non è ancora compreso, però io per esempio, quando metto in vendita freebies in italiano, tutorial in italiano, faccio le descrizioni in italiano, magari scrivo qualche frase in inglese, giusto per far capire che cosa sia. A questo punto, dobbiamo aggiungere il second life object name. In questo caso è oggetto da vendere su marketplace, perché l'abbiamo già scelto precedentemente. Qualora volessimo cambiare articolo, possiamo cliccare su questo pulsante, su questo pulsante ci si aprirà una finestra, che ci permetterà di scegliere tra vari articoli, che abbiamo già caricato ovviamente nella Magic Box. Andiamo avanti a compilare, e abbiamo le product features, cioè le caratteristiche del prodotto. Qua avete 5 linee per enfatizzare il vostro prodotto, se state vendendo un motore fuori bordo, scriverete ottimo per i gommoni, piuttosto non va bene per le barca a vela, sta a voi. Nell'extended description, avete 5.000 caratteri per scrivere una descrizione del vostro prodotto. Keywords, parole chiave. Qua potete scrivere 200 caratteri di descrizione, per esempio, io sto vendendo un motore fuori bordo, scriverò motore fuori bordo, nautica, gommoni, cioè delle parole che siano relative all'articolo che state vendendo. Vi consiglio di farlo in inglese, sempre, sinceramente. La category, dovete scegliere una categoria, vedete, aprite, e potete cercare tra le varie categorie e vi dà un suggerimento. Per esempio, io scriverò engine, engine, che vuol dire motore, gli faccio search categories, è difficilissimo parlare mezzo inglese, metà italiano, non me lo dà, ma è un termine anche abbastanza difficile. Mettiamo che io voglio vendere delle scatole, scrivo shows, vediamo search category, mi dà delle categorie, vedete, mi propone delle categorie, oppure, e questa è una ricerca automatica, oppure possiamo andare in browse, ricerca, ci dà tutte le categorie, e dobbiamo andare a sceglierci la categoria giusta. Ok? Adesso io sceglierò questa, una a caso. Andiamo avanti, dobbiamo scrivere il prezzo del nostro articolo in questo campo, da quanti prima è composto, poi abbiamo una slurl, una slurl sono le coordinate dove il nostro articolo è visibile in second life. Per ottenere una slurl, normalmente apriamo la mappa, e c'è un campo che dice, copy slurl to clipboard, lo clicchiamo, torniamo qua, e premiamo ctrl V. Video urla, se abbiamo fatto un video per promuovere il nostro articolo, scriveremo qua il link. La available quantity vuol dire la quantità disponibile, per default è un limited, cioè illimitata. Qualora state vendendo un articolo di cui avete poche copie, dovete cliccare questo campo e scrivere qua quante copie potete vendere. Immagini, attraverso questo campo potete caricare un'immagine, vedete, noi lo apriamo, clicchiamo qua, e entriamo nel nostro computer a scegliere un'immagine. Ok, faccio un annulla qua per fare velocemente. Qua possiamo con lo stesso procedimento includere una gif animata, possiamo includere sempre con lo stesso procedimento un pdf scaricabile, nei related items, articoli relativi, possiamo aggiungere sino a 8 articoli, vedete, possiamo cercare un nome da, un articolo per il nome del prodotto o per la SCU, per esempio non so se voi vendete delle scarpe in varie versioni giallo, bianco, rosso o verde, potete scriverlo qua. Nel revenue distribution, voi dovete specificare dei co-creatori di questo prodotto, a cui voi volete aggiungere, a cui volete garantire una parte degli incassi. Clicchiamo, add distribution, scrivete qua il nome dell'avatar e la percentuale dell'incasso che volete garantirgli. Ho fatto tutti questi passi, cliccate su update e abbiamo fatto tutto. Ho compilato tutti i campi, ho cliccato su update e otterrò questa pagina in cui mi dirà aggiornato con successo e il gioco appunto è fatto. A questo punto io posso andare a controllare il mio listing, cliccando qua, su oggetto da vendere su marketplace, vedete, mi si apre, scatemi ho messo un'immagine a caso, mi si apre e questo è il mio listing che la gente potrà comprare a piacimento. Posso andare anche a controllare tutto il mio negozio, cliccando su my marketplace e vado su my store, il mio negozio e qua lo vedo, vedrò tutti gli articoli che ho listato in vendita. Con questo per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video tutorial. Come al solito vi ricordo che potete trovare altri tutorial sul mio sito oppure potete venire a Guyaland dove c'è una zona per i tutorial. Ciao, alla prossima!